Ne abbiamo tanta necessità, proprio perché l'ascolto fa parte della comunicazione. Non ci può essere una comunicazione corretta e efficace se non c'è un ascolto altrettanto corretto ed efficace. L'ascolto non è sicuramente il mero sentire, e invece noi spesso lo intendiamo così. Quindi ascoltare, quando si parla di ascolto, si parla di quello che è uno degli strumenti base del counseling, vale a dire l'ascolto attivo, partecipato. Noi siamo abituati con i social, i Nike, che dovrebbero dare il riscontro dell'ascolto avvenuto. E questo sistema quasi matematico, numerico, ci illude di essere ascoltati. Poi invece all'interno la nostra solitudine fa i danni che sappiamo. Sì, infatti questa distorsione comunicativa che è legata all'uso dei social, ma non solo dei social, anche dei messaggini, delle chat, eccetera, rende sempre più difficile invece quell'ascolto appunto attivo, partecipato, che ha necessità di una attenzione, di una disponibilità, non soltanto esterna, quindi fatta del tempo e dello spazio necessario e adatto, ma della disponibilità interna. Nel momento in cui noi ascoltiamo e ascoltiamo in modo appunto partecipato, in modo attivo, noi attiviamo la nostra comprensione empatica e cioè in quel momento mettiamo da parte quelle che sono le nostre idee, i nostri principi, le nostre forme mentali, i nostri schemi, per accogliere in quel momento quelli dell'altro. Tu hai dato alle stampe, come si diceva una volta, alle stampe, un libro molto interessante che riclette proprio questo tipo di ragionamento, cioè cosa il counselling può fare, può dare in questa situazione. Ce ne vuoi parlare del libro? Come si chiama innanzitutto? Allora, il mio libro si chiama Il counsellor espressivo. Il counsellor espressivo perché il counselling espressivo è una delle specificità del counselling e nel counselling espressivo il counsellor che utilizza dei mezzi o artistici o anche strumenti anche del quotidiano in modo creativo, in modo appunto espressivo, ha la necessità di saper ascoltare molto bene, perché quando si usa un mezzo artistico, che sia un disegno, che sia una danza, che sia un movimento, ma anche la creazione di una fiaba, lavorare sulla metafora, eccetera, è necessario non solo saper comunicare verbalmente, ma sapere anche ascoltare, come diciamo noi counsellor, non soltanto con le orecchie, ma anche con gli occhi e con il cuore. Si pensa che l'ascolto sia qualche cosa, diciamo così, di grande, di attivare solamente in determinate situazioni, magari che ne so, terapeutiche o altro. In realtà, quando si parla di ascolto, si parla proprio di un ascolto quotidiano, un ascolto dei figli, un ascolto degli studenti, un ascolto della coppia, un ascolto in ambito sanitario, un ascolto in ambito aziendale e saper ascoltare è un vantaggio in tutti questi campi. Io vorrei lasciarvi, se mi permetti Giancarlo, con una frase di Rogers, che è il padre del counselling, che dice l'incapacità dell'uomo a comunicare è il risultato della sua incapacità di ascoltare davvero ciò che viene detto. Ecco, io penso che questa sia una frase adatta a questa giornata.